Buongiorno a tutti, benvenuti. Come prima cosa, prima di iniziare, volevo farvi vedere e mi piaceva dire che Libre Italia ha aderito alla campagna Posto Occupato e quindi oggi terremo un posto occupato per una donna che sarebbe stato bello avere qui ma che non avremo perché è stata vittima di violenza. In questa settimana ci sembrava opportuno ricordarlo, ci piacerebbe ricordarlo non solo in questa settimana in cui si celebra la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, ci piacerebbe non ricordarlo più, questo sarebbe il modo migliore e quello giusto, però dobbiamo ancora farlo e quindi teniamo questo posto occupato con noi e lo porteremo in tutti gli eventi che faremo come associazione, questo abbiamo deciso. Prima di iniziare vorrei ringraziare l'amministrazione comunale che ci ospita qui oggi e quindi la biblioteca comunale che sta portando avanti un progetto di migrazione a Libre Office che ci auguriamo coinvolga presto anche il resto delle postazioni dell'amministrazione comunale e vi do il benvenuto nella città di Terni, poi lo farà meglio di me Gabriele Ponzo che ha voluto fortemente che la conferenza quest'anno fosse organizzata nella sua città che qui oggi ci ospita e chiamo l'assessore Falchetti Ballarani che è assessore all'innovazione e che porta i saluti dell'amministrazione comunale. Buongiorno a tutti, io stamattina sono qui per portare il saluto del sindaco di tutta la città di Terni e per esprimere il piacere mio particolare ad essere stata invitata per essere qui tra voi perché come diceva la Presidente ho la delega all'innovazione e anche per mia esperienza professionale perché sono un avvocato ho una forte convinzione, sono una forte sostenitrice della libertà informatica. Quindi studio un pochino per vari motivi anche un po' per passione di filosofia giuridica oltre che per innovazione e anche perché ormai la giurisprudenza e il diritto informatico, abbiamo visto anche in questi ultimi giorni le grammatiche dicembre che sono successe, diventa un settore del diritto e quindi un focus dovrebbe essere particolarmente attenzionato sul quale secondo me dovrebbe esserci una particolare attenzione anche dal punto di vista dei finanziamenti e quindi del sostegno anche alle amministrazioni da parte del Governo centrale. Non voglio quindi, non volevo, io ieri pensavo di come presentarmi e come portare il saluto, io sono un po' poco formalista, non volevo fare un saluto formale, non volevo però, come si dice, allargarmi e prendervi troppo tempo perché è una conferenza molto interessante a cui parteciperò spero in gran parte della mattinata perché ho altri impegni e mi sono permessa di scrivere due righe, bene leggerò, non per mancanza di rispetto, io in genere parlo a braccio, però sono dei concetti che io vorrei qui sottoporre a voi che siete esperti e che siete in prima linea ad affrontare queste problematiche e quindi per sintesi mi permetto di leggervele per evitare di andare oltre i tempi, quindi ribadisco non è una mancanza di rispetto e giuro l'ho scritta io perché in genere si legge, si leggono cose. Internet ormai è riconosciuto dalla legge e dalla giurisprudenza come strumento di estensione dei diritti fondamentali quali quello della libertà di pensiero, di manifestazione, del diritto allo studio, del diritto di associazione e di tanti altri diritti riconosciuti dalla nostra Costituzione. La tecnologia informatica è diventata certamente il mezzo, ma al tempo stesso anche il diritto di accesso, diritto che per sua natura non può essere compresso, presupposto della libertà informatica e la libertà di accesso ad Internet e alla rete. Siamo in una fase in cui l'utilizzo della rete può essere regolamentato con l'obiettivo primario quello di evitare la commissione dei reati che attraverso questo mezzo possono essere commessi e compiuti, ma non può essere costretto né tantomeno può essere impedito. In questo quadro, prima appena sinteticamente tracciato, anche la pubblica amministrazione non può esonerarsi dall'usare questo modo di comunicazione con i cittadini e al tempo stesso garantire ai cittadini il diritto sociale di ricevere servizi digitali. La libertà informatica e quindi il diritto di accesso, di libero accesso ad Internet hanno modificato e modificano anche il diritto di proprietà. Il libero accesso per realizzarsi presuppone infatti la inclusione e non anche l'esclusione degli altri che è il tipico principio della libertà privata, così come dettata dal nostro codice civile. Tanti e molti interessanti sono i temi che si sviluppano e si originano dall'analisi del diritto all'informatica e del diritto di informatica. La conferenza oggi sicuramente porterà contributi validi, produttivi e concreti. Questo è il mio saluto e vi lancio queste piccole riflessioni. Grazie.